Sono qui per annunciare il mio addio al Movimento 5 Stelle, nelle prossime ore firmerò per entrare in un nuovo gruppo di Luigi Di Maio, potete ben immaginare che non sia stata una scelta semplice, non è una scelta in dolore, se avessi dovuto pensare alla mia convenienza personale non avrei dovuto fare questa scelta perché io sono al primo mandato, ho restituito con molta regolarità tutto, mancavano gli ultimi due mesi ma a questo punto li darò in beneficenza. Però sapete è come un fidanzato di lungo corso, speri che possa cambiare oggi, domani e invece non solo non cambia ma peggiora.